eccoci qua bentornati su vin sapiens continuiamo il dialogo con gianluca io sono gianandrea giacoma e di fronte meo gianluca bocchi continuiamo il nostro dialogo nel tentativo di capire questo interpretazione che propone gianluca di trovarci tuttora nella cultura occidentale bloccati in una specie di eterna tarda modernità abbiamo visto un po l'inizio di 500 anni fa con l'inizio della modernità come la stato un stravolgimento culturale esistenziale e in qualche modo abbiamo anche previsto un po psicologico di queste grandi rivoluzioni di visione dell'uomo e dell'universo e adesso proviamo un po proseguire nei secoli successivi beh ricolleghiamoci a quello che abbiamo detto l'altra volta no per sottolineare no che oggi c'è un grande storico del clima che si si chiama wolfgang berringer e ha tradotto in italiano la sua storia naturale del clima che adesso ha fatto un magnifico libro che è uscito adesso in tedesco si chiama de grosse aufbruch che parla proprio delle origini della modernità è un libro di 1300 pagine costruito molto bene fatto di storie poi lo tradurranno in inglese ma spero anche in italiano no lui ha tantissime cose dentro però non si dimentica di avere uno storico di essere uno storico del clima e allora insiste quanto l'inizio del 600 proprio i primi decenni del 600 che poi sono i decenni di che plevo e di galileo ricordiamoci no che nel 1609 1610 c'è la praticamente la rivoluzione grazie a che per e a che plevo e a galileo del delle struttura del sistema solare ecco certo sono decenni caratterizzati da un fenomeno strano apparentemente cioè la pazzia di tutti i governanti nel mondo cioè perché ci sono governanti o pazzi che uccidevano servio parenti o comunque melanconici ritirati non all'altezza del compito e si diffonde anche il tema della malinconia e lui lo collega alle guerre naturalmente no perché la situazione europea ricordiamoci che c'era un grande afflusso in spagna del dell'argento del sud america in cosa veniva speso questo argento non certo per il benessere degli spagnoli ma per farle guerre no quindi come dire il risultato uno dei risultati poi ce ne sono di molto più positivi della economia globale del continente americano era l'aumentare le guerre in europa no e dopodiché la cosa più seria sono le carestie dovute al clima no e che ovviamente noi uomini al ventunesimo secolo non possiamo vedere quanto allora si dipendesse da quello no ma perché non c'era poi era ancora molto raro il commercio a larga scala no di di non so di cereali di genere di prima necessità no quindi si iniziava allora proprio a importare perché quando c'era la carestia in un luogo in genere la gente corriva o era esposta alla pentilenza no allora lui fa delle citazioni che adesso non leggeremo però che insomma per esempio un inglese no nota come l'attualità del tempo era tutta piena di sollevazioni ribellioni ozio poveri insomma tutte le cose peggiori insieme questo è interessante alle notizie di meteore di prodigi e di miracoli no ok allora c'è tutto il discorso del come dire della difficoltà del momento presente e della speranza in una sollevazione in una rivoluzione che molte volte aveva i toni apocalittici no della seconda venuta del cristo no ma altre volte come dire c'era una speranza non meglio precisata no di qualcosa che potesse come dire rendere più agevole la situazione allora diciamo che la scienza e la tecnologia in maniera originariamente abbastanza inconsapevole però un po' per volta caricata effettivamente di questi valori si pongono in parte naturalmente la possibilità di uscire fuori da questo stato di crisi generalizzata e di aiutare a vivere meglio no questo è un tema fondamentale no ok è un tema che c'è in bacone per esempio eccetera eccetera no però perché questo programma funzionasse sul lungo periodo appunto l'abbiamo detto l'altra volta ma ripetiamolo ci sono due problemi uno che vabbè siamo d'accordo che di fronte all'eterogeneità dell'esperienza del mondo devi trovare un bandolo della matassa e quindi devi diremmo noi oggi semplificare no però non c'era un accordo sulla semplificazione no nel senso che noi oggi parliamo di scienza classica no però noi sappiamo che le posizioni dei filosofi e degli scienziati da allora erano molto diverse no cioè chiaramente noi oggi con senno di poi vediamo che poi la strategia più vincente era quella di galileo il quale diceva vabbè riduciamo alla della diversità del mondo cioè le qualità secondarie andiamo in cerca di qualità primarie sottostanti che possono essere più o meno matematizzate no poi questo discorso c'è la variante cartesiana che si rifà un pochino al mondo antico no perché qui democrito e lucrezio che quindi ha una variante materialista per cui nel mondo tutto c'è materia e movimento e poi chiaramente poni tipo nel problema dove sta la mente no perché questo materialismo da allora apre un enorme problema no su dove mettere la mente umana però ci sono anche delle varianti più minimali direi che poi sono quelle che hanno avuto più successo di newton in cui quello che conta non è tanto una spiegazione metafisica ma una descrizione di che cosa può fare la scienza no quindi la ricerca di leggi tipo la legge di gravità e mettendo un po' tra parentesi fondamenti metafisici no quindi c'è un grandissimo come dire grandissimi dibattiti eccetera eccetera che però sono tutti d'accordo sul tema che la conoscenza diciamo scientifica e conoscenza di leggi generali e invarianti e quindi la riduzione di tutti gli aspetti singolari eccetera eccetera si apre un altro problema il problema dei fondamenti perché sì va bene noi facciamo queste operazioni ma chi ci dà la legittimità che queste operazioni non siano puramente soggettive fatte dagli umani in momento di crisi no e allora qui in linea di principio perché anche qui variano le cose c'è l'invenzione di dio che cosa voglio dire l'invenzione di dio chiaro che che dio faceva parte del dell'immaginario di tutta la storia antecedente no ma qui di tutto ciò che diceva il cristianesimo che ho altre religioni che poi era molto varie eccetera eccetera viene preso ripeto quasi inventato di dio l'aspetto di dio legislatore cioè è quasi una proiezione dell'idea del monarca che si metteva a a dare le le leggi alla alla società no in questo modo dio questo dio perché appunto dopo trovare i rapporti precisi con la teologia non è assolutamente facile questo dio diciamo all'inizio della creazione aveva definito le leggi della creazione e in qualche modo aveva messo negli esseri umani a sua immagine e somiglianza la possibilità di accedere alle leggi che aveva dato al cosmo no quindi è una sorta di alleanza tra i soggetti umani in quanto tali fallibili e questo intelletto che in qualche modo veniva garantito no da un'autorità superiore che faceva il fondamento alle conoscenze oggi noi chiameremmo questo dio il god of the gaps no criticato molto anche dai teologi cioè quando non sai come spiegare le cose scientificamente ricori a dio no lì non era il discorso che non si riuscivano a spiegare certe cose ma ricori a dio come fondazione assoluta no perché dico queste cose perché il rapporto tra scienza e teologia no è molto meno banale di quello che si crede cioè chiaro che l'età moderna è una rottura in un certo senso col cosmo medievale però nei primi secoli sostanzialmente il fondamento teologico rimane o addirittura rimane più importante e qualche volta è più ingenuo di certe visioni che noi vediamo oggi più raffinate come quella di nicolò cusano no che aveva di dio e della conoscenza un'idea molto più raffinata detto questo perché dobbiamo insistere che poi c'è un altro periodo storico importantissimo alla fine del settecento all'inizio dell'ottocento perché fino all'inizio alla fine del settecento all'inizio dell'ottocento la scienza rimane in qualche modo marginale cioè gli scienziati sono sicuramente importanti ma non sono istituzionalizzati no e quindi hanno anche grossi bisogni no proprio dal punto di vista pratico di trovare no io lo dico sempre in maniera molto inadeguata perché è una metafora del presente ma degli sponsor no assolutamente no infatti certe vicende tipo anche il processo a galileo no si vede anche perché galileo smanettava parecchio per cercare lui ha avuto la fortuna di avere i medici come e che plero ha avuto gli asburgo no senza questi rapporti privilegiati tra i regnanti e gli scienziati non ci sarebbe stato fondamentalmente gli sviluppi della scienza moderna la gran parte dei moltissimi scienziati erano comunque religiosi perché ovviamente essere un religioso ti consentiva in qualche modo di dedicarti ai tuoi studi altri e poi questa tradizione arriverà fino a darwin erano dei benestanti no e non avevano e facevano i dilettanti ma i dilettanti in un senso profondo cioè loro non era il loro mestiere ma proprio perché non era il loro mestiere magari avevano una libertà di ricerca eccetera eccetera questa situazione cambia un po' con l'illuminismo perché indubbiamente nell'illuminismo c'è questo elemento di divulga noi diremmo anche queste sono cose prese dal presente ma tanto per capire di divulgazione scientifica di opinione pubblica no a cui in qualche modo vuole sviluppare i i tuoi risultati no anche perché qualche avanzamento nella alfabetizzazione c'era no è chiaro che nel seicento voglio dire chi poteva leggere il libro era una minoranza assoluta nel settecento un po' meno cioè chiaro gli strati popolari non sono coinvolti però c'è un'opinione pubblica colta per cui scrivere non rimane solo per esempio al tuo circolo no a cui si rivolgevano poi alla fine tutti e sei cento ma voglio dire che sei nobili aristocratici o borghesi commercianti insomma c'è un pubblico no cui vuoi rendere conto no e c'è un fatto per esempio la storia naturale di buffon in tantissimi volumi che era un po' il quadro dello scibile che si aveva allora sulla biologia la geologia le scienze della natura tanti volumi con bellissime illustrazioni no ce l'avevano in casa tutti i francesi diciamo orienti poi dopo magari non la leggevano però qualcosa si stava diffondendo no a questo punto che cosa succede succede noi lo sappiamo rivoluzione industriale no una una rottura importantissima no che mette come dire da un primato che prima non c'era la tecnologia perché è la tecnologia prima della scienza che crea la rivoluzione del vapore e dobbiamo sottolineare che senza rivoluzione del vapore non ci sarebbe stata la rivoluzione della mobilità né a bassa come dire abbastanza locale cioè i treni e globale i piroscafi no quindi voglio dire prima ancora che ci sia la teoria della termodinamica diventa importante la tecnologia no allora in questo momento tra l'altro l'Europa inizia ad avere un predominio mondiale che nei primi secoli della modernità non ha avuto no e in qualche modo si inizia a capire che la conoscenza scientifica è anche molto utile dal punto di vista pratico no allora da questo punto di vista ci sono delle modalità organizzative nuove praticamente nasce il sistema attuale dell'università per cui il principale sponsor diventa lo stato no che lascia in linea di principio libertà di ricerca no però in qualche modo vuole anche qualcosa in cambio oltre allo stipendio alla libertà di ricerca no e gli stati iniziano a capire no che sì in maniera un pochino mediata no però la conoscenza scientifica ti aiuta anche per i loro obiettivi militari no e poi è un rapporto che è andato avanti no e che si è sviluppato anche nella guerra fredda e in queste situazioni no allora in quel momento parallelamente la scienza che ripete un'attività importante ma non onnicomprensiva della conoscenza umana no non solo perché i primi scienziati eh o erano essi stessi dei religiosi o avevo in qualche modo non so tipo che plero era anche un astrologo eh o newton era anche un alchimista no ma non solo in in buona parte staccano queste relazioni ma ed è qui il fatto di cui eh dobbiamo fare i conti ancora oggi la scienza che è un'attività indubbiamente caratterizzata dai suoi limiti no perché la scienza per esempio un aspetto scientifico molto controverso è l'idea che tanti risultati scientifici li fai nella pratica del laboratorio e la pratica del laboratorio è molto artificiale ci sono state delle belle critiche a questo soprattutto la grande Isabelle Stengers filosofa e collaboratrice di Prigogin che non si vuol negare il fatto che non porti a dei buoni risultati certo che lo porta però per dire che tutti i risultati scientifici sono basati su un contesto e su delle regole precise locali no ecco questa è la scienza la scienza si dimentica inizia ad avere una sorta di amnesia della sua limitazione e si pone come un'impresa dominante e generalmente totalizzante no con tantissime varianti naturalmente e con una sorta di imperialismo diciamo sulle altre attività umane che poi è variabile no perché poi dopo nemmeno in quel periodo storico lì cioè la scienza ha sempre preso l'ispirazione dall'arte e dalla letteratura non è che in quel momento no c'è solo l'idea come dire che la scienza domina no il rapporto è molto più complicato però insomma nasce quella figura di cui ancora oggi noi dobbiamo fare i conti no dello scientismo no per cui la scienza al peggio ma è una metafora che si usa ancora oggi diventa un tribunale su cui giudicare le altre tradizioni no e quindi paradossalmente le altre tradizioni vengono giudicate nella somiglianza all'ideale scientifico che poi voglio dire è molto datato e molto controverso allora cerco di fare una sintesi per sommi capi per aiutare perché gli spunti erano stati tantissimi tra il video precedente e questo e tu dimmi se ho capito bene qualche modo lo faccio anche per chi ci segue allora all'inizio c'è 500 anni fa con l'inizio della modernità vabbè con in mezzo l'umanesimo rinascimento ma non andiamo troppo per il sottile un taglio netto rispetto alla visione del cosmo e dell'umano rispetto al scusa se ti interrompo taglio netto però con delle continuità anche no dobbiamo cercare di allora io sono a favore dell'idea di rivoluzione scientifica figuriamoci è un concetto importantissimo però come sempre dove ci sono delle discontinuità ci sono anche delle continuità sottostante esatto adesso arrivo alle continuità cioè cioè di fondo nell'esistere in quanto umani in qualsiasi epoca un confronto con l'incertezza la caoticità l'entropia e quindi anche una certa forma di angoscia che fino fino al periodo medievale veniva risolta a livello esistenziale all'interno della dimensione teologica di farie forme con il crescere delle rivoluzioni graduali scientifiche nella modernità rimane comunque l'esigenza esistenziale psicologica molto incarnata di comunque fronteggiare quell'angoscia in parte trovando dei nuovi appigli nella scienza ma nel contempo la scienza rivoluzionario certe visioni certe certezze è essa stessa portatrice di grandi o piccoli stravolgimenti e nei primi secoli trovando un connubio tra quella sensibilità ancora teologica e quella nuova modalità di provare a ridisegnare un senso anche alla luce delle rivelazioni no che la scienza dava rispetto a delle visioni un po più ingenue si cerca di creare un'alleanza tra una visione scientifica ma che sia fondato sullunte su un intelletto legato a un dio legislatore nel senso legislatore nel senso che quello che dà l'ordine l'orologiaio eccetera questa è una prima parte so che sto andando punto per sommi capi ma giusto per capire i macro passaggi avvicinandoci settecento e poi ottocento viene se se ho capito bene dimmi se ho intuito bene la parte nella commissione tra religioso e scientifico la parte religiosa sfuma sempre di più sfociando come poi anticipò a un certo punto dice con l'iclismo diventando sempre più un pragmatismo puramente tecnico è corretto questo passaggio è corretto solo che appunto nasce il problema dove fondarlo e questo il problema allora raccontiamo questo discorso che all'inizio dell'ottocento la scienza inizia ad essere molto mediatizzata no poi ci sono aspetti molto positivi tipo il fatto che Darwin fa la sua rivoluzione anche grazie ad avere tanti lettori eccetera eccetera poi su questo magari torniamo ma in qualche modo si considera primaria e autosufficiente per la civiltà occidentale no a parte l'etnocentrismo che di cui in qualche modo no la tradizione scientifica è venata ma qui non con i con i sinistriamo però ci sono due problemi rispetto a questo triunfalismo no che sono bene espressi per esempio da un grande scienziato cioè pier simon de laplace no che come dire era come dire matematico fisico e poi un grande lavorava anche con napoleone insomma aveva anche un prestigio sociale molto forte no perché lui dice molto prima di inizio dice molto chiaramente a napoleone dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno quindi le conoscenze umane si considerano autofondanti ma questo apre anche se laplace non lo sapeva il problema dei fondamenti perché ripeto poi la critica di tutti questi 100 anni ha scoperto in quanto le pratiche scientifiche siano contingenti cioè contingenti non vuol dire che non sono utili e significativi e anche condivise in gran parte da tutta la specie umana ma che si basano appunto su regole su condizioni sociali che la scienza non è una cosa sola ma sono le scienze e che quindi soprattutto e questo è l'aspetto che oggi non mettiamo in risalto se non altro è fondata sulla struttura biologica della specie umana no certi aspetti scientifici che magari possiamo considerare di specie tanto per dire gli aspetti più generali perché altri magari sono più contingenti no ma diciamo molti aspetti scientifici che possiamo considerare di specie appunto sono di specie sono basati sulla biologia umana un esempio per far capire qualunque cosa noi noi conosciamo è basata sul nostro apparato percettivo l'esperienza umana quando noi diciamo il primato dell'esperienza è una bellissima cosa il primato dell'esperienza anche se poi tutti dicono che non la scienza non si fonda solo sull'esperienza ma l'esperienza noi sappiamo adesso lo sappiamo benissimo dalle neuroscienze tutte queste cose che la percezione umana è filtrata dal nostro cervello e capta tra gli stimoli dell'ambiente soltanto alcune che sono lunghezze d'onda tipo il colore gli suoni eccetera eccetera già gli animali e le piante anche hanno altri sistemi percettivi e altri sistemi cognitivi ma questa è una sensibilità contemporanea qualche secolo fa contemporanea ma il problema della crisi dei fondamenti nasce allora perché se te levi il fondamento tirologico allora divinizzi in qualche modo l'umano che non può essere divinizabile no perché l'umano essendo un essere biologicamente contingente spazio temporanea contingente può anche captare dimensioni dell'universo molto lontane da lui nello spazio nel tempo e questa è la grandezza umana ma non può captarle dall'esterno le può captare solo attraverso le le sue modalità biologiche no che questo poi parleremo di queste cose più nel prossimo incontro parliamo dell'ultimo secolo del novecento che c'è tantissimo da dire adesso dico due cose poi interviene perché sono due no allora nel momento del trionfalismo e non ci si rende conto di questa cosa nasce il problema della crisi dei fondamenti proprio nel momento in cui la la scienza dice vabbè questo dio che che avevamo posto a fondamento adesso lo possiamo lasciare da parte no semplifico no questo è l'atteggiamento di laplace poi ci sono mille altri atteggiamenti però nasce una cosa che nell'ottocento non si percepisce la crisi dei fondamenti il secondo grosso problema è che mentre l'immaginario ancora nel seicento metteva giustamente l'accento sull'ignoranza umana no c'è la metafora di newton che diceva che lui sembrava un bambino che giocava su un secchiello nella spiaggia no fare i castelli e le buche e poi di fronte a lui c'era il grande oceano della conoscenza quasi intatto no che è una metafora molto attuale secondo me ma all'inizio dell'ottocento inizia a svilupparsi la metafora opposta della scienza come matura se non addirittura vecchia cioè inizia a diffondersi l'idea che il meglio era stato fatto e che quindi nel futuro si trattava soltanto di raffinare quello che era già stato costituito molto interessante e laplace tra l'altro rispetto all'astronomia fa delle affermazioni che oggi ci fanno ci sorprendono perché laplace era un grande gastronomo e diceva beh adesso gli astronomi non hanno praticamente nulla di scoprire se non qualche stella che è più debole delle altre quindi la studieremo meglio raffinare ciò che la gravità ci dice no che che voglio dire alla luce di questi due secoli ci rendiamo conto allora qual è il grosso problema che la scienza rinuncia te l'ho detto non non è un fatto noi qui stiamo facendo un discorso emblematico no poi ci sono tante differenze ma ha un atteggiamento che scivola nel non sapere di non cioè rimane l'idea che certe cose non si sanno ma si possono conquistare con quello che si è già conquistato però sapere che esistono dimensioni altre non solo della realtà ma anche della nostra conoscenza viene in qualche modo messo da parte ripeto non è una cosa assoluta perché se fondamentalmente anche nell'ottocento gli scienziati filosofi sono i più diversificati possibili naturalmente no però questo atteggiamento ha una grande importanza che cosa vuol dire che la scienza diventa nel momento del suo massimo sviluppo non come oggi no ma un momento in cui gli scienziati iniziano essere tanti avere prestigio eccetera sviluppa nella tradizione dominante naturalmente che fortunatamente non non è adesso lo dico esaustiva no cioè non comprende tutti quanti ma un aspetto profondamente conservatore e quindi fa i pugni con lo spirito stesso della scienza delle origini e poi della scienza attuale invece che il mio spirito credito fondamente innovatore soprattutto ama le anomalie e qui è il discorso che noi partiremo per il novecento cioè che mentre l'anomalia le cose che non funziona sono qualcosa per l'atteggiamento conservatore non dico di cui vergognarsi ma insomma di marginalizzarle un po nel novecento l'anomalia diventa il cuore stesso almeno per i scienziati creatori dell'impresa scientifica no allora io dico questo che nell'ottocento si consolida ed è abbastanza pericoloso anche se voglio dire è anche un modo di rispondere alla crisi dei fondamenti la scienza centrata sul passato dice abbiamo fatto la grande rottura e adesso abbiamo capito come va il mondo nel novecento anche se molti non lo sanno ancora inizia ad aprirsi un'idea di una scienza centrata sul futuro cioè che il bello deve ancora venire e effettivamente tutto quello che è successo nell'ultimo secolo ha creato questa grande rottura che però e qui ci torniamo la prossima volta è una rottura in molte pratiche e molte conoscenze ma che non è percepita invece molte volte a livello istituzionale ed è questo il discorso della tarda modernità che noi in qualche modo mentre abbiamo possibilità di conoscenza e anche di azione radicali dobbiamo anche fare i conti sul fatto che la nostra ricerca nella scienza e nella tecnologia di una securizzazione che voglio dire sostituiva in qualche modo la teologia naturalmente qui guardiamo i grandi trend non ha senso e che invece dobbiamo trovare una modalità di vivere con l'incertezza che è essa stessa un elemento di fondamento però il sapere senza fondamenti può fare e qui ci torneremo su esercitare il valore del fondamento perché è meglio avere fondamenti precari e rivedibili che fondamenti assoluti ma falsi e questo è il grande tema antropologico dell'ultimo secolo e questo poi lo svilupperemo nei prossimi video quindi faccio una chiusura da un passaggio in cui si cercava di coniugare la rivoluzione scientifica moderna con i riferimenti teologici tardo-mediovali si è gradualmente in quei secoli tra il settecento e l'ottocento poi passati a un progressivo indebolimento della visione metafisica teologica religiosa ma si è conservata e si è cresciuta la potenza della conoscenza scientifica che ha creato però consciamente o inconsciamente una crisi dei fondamenti di quella conoscenza che esplicitamente o implicitamente ha creato una inflazione della capacità conoscitiva e quindi dell'umano con rischio in certi frangenti di scientismo lo scientismo rimane l'ideologia non detta è la parte dominante della tradizione scientifica perché ripeto la realtà non è mai assoluta è chiaro che fortunatamente le cose sono molto più ricche e condattute però noi stiamo vedendo certi atteggiamenti che sono importanti ancora oggi e pericolosi oggi come sono nati avendo una funzione voglio dire una funzione antropologica quindi se ho capito bene l'incapacità cioè in qualche modo per far fronte io lo guardo sempre un po' dal punto di vista anche emotivo e psicologico il confronto con il venire meno di un certo riferimento filosofico teologico metafisico ha inflazionato la potenza pragmatica e conoscitiva dell'uomo oltre le sue reali e relative come hai accennato tu capacità creando una specie di inflazione dell'umano che probabilmente è stato un po' anche il seme delle ideologie politiche del primo novecento che si sono nell'uso di poter creare l'uomo nuovo sia a destra che a sinistra fondata su anche in qualche modo anche la visione del super uomo niciano il super uomo niciano anche se Nietzsche poi magari non conosceva tutti gli sviluppi scientifici però eliminando la teologia come fondamento o affronti il problema serio della crisi dei fondamenti oppure fondi su te stesso sul super uomo e qui c'è un punto di unione tra le nostre due sensibilità e visioni cioè nel senso che io poi questo lo svilupperemo nei prossimi video ma l'accenno per chi ci ascolta e ci vuole continuare a seguire qui si fonda anche secondo me una grande confusione fondante la visione nichilistica che nasce appunto nell'ottocento da Nietzsche in poi che è quella di confondere una visione tardo-mediovale e moderna di fondamento con la conferma che allora non ci sia nulla mentre in realtà il nichilismo non è la conferma che non c'è nulla ma è una conferma ma è un'indicazione di una difficoltà di relazione col mistero ma questo adesso non possiamo svilupparlo adesso proprio così di relazione col mistero col futuro l'idea stessa di realtà cioè adesso tanto per stiamo arrivando all'oretta non ce la facciamo sviluppare tanto per semplificare troppo ma molti atteggiamenti nichilisti sono uguali agli atteggiamenti invece scientisti cioè l'idea di realtà è un'idea chiusa per cui noi possiamo definire ciò che è realtà ci mettiamo al posto di Dio naturalmente mentre tutta l'esplorazione scientifica mette in crisi e ci fa allargare la nostra idea di realtà da un certo punto di vista da questo punto di vista dopodiché vabbè qui bisognerebbe dire tante cose che meriterebbero di essere sviluppate magari ci torniamo la prossima volta ecco perché non è che nell'ottocento si inizia anche a avere l'idea grazie a Kant poi si svilupperà questa cosa che vabbè che la conoscenza comunque la rivoluzione copernicana di Kant non è altro che la conoscenza è fondata sul soggetto umano c'è questa tendenza contraria al trionfalismo scientista e chi si occupa diciamo di biologia è più sensibile degli altri perché inizia a capire che la conoscenza non è garantita in assoluto ma invece in questo senso Kant ha avuto un ruolo molto positivo e vabbè non si è visto allora nell'ottocento quanto confliggeva invece con certe diciamo retoriche della scienza perché poi qui non è il discorso della teoria solo è il discorso anche della narrazione che fai al pubblico che poi diventa quasi più influente da questo punto di vista ultima cosina poi veramente chiudiamo cioè c'è di fondo cioè la differenza poi l'importante è capirsi sui termini non attacchiamoci all'etichetta cioè la differenza tra religione e spiritualità che la spiritualità ti mette in relazione con l'incertezza un certo tipo di modo di vivere la religione è un modo per toglierti l'incertezza quindi un certo scientismo e certa ideologia politica seguita a quello scientismo aveva un fondo di distorsione religiosa a differenza di chi invece porta avanti una spiritualità religiosa o laica che sia o filosofica che invece è un continuo confronto con l'abisso con l'incertezza però questo lo sviluppiamo nel prossimo video va bene? va bene grazie a tutti ci vediamo presto grazie a tutti